Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, oggi in Polonia ricorre la giornata nazionale della vita stabilita dal Parlamento nel 2004. Domani, nella solennità dell'Annunciazione, la Chiesa in Polonia celebrerà la giornata della Santità della Vita. Per l'intercessione di Maria, Madre di Dio, pregate affinché in tutto il mondo ci sia una rinnovata sensibilità nelle conscienze, nelle famiglie, nella Chiesa e nella società riguardo al valore della vita umana in ogni etapa e in ogni condizione.